Questa intervista la registriamo ai piedi del castello perché questa risorsa culturale, turistica di livello mondiale, possiamo dirlo, sarà anche protagonista degli European Master Games. Quando mi è stato proposto di ospitare una delle gare, una delle discipline degli European Master Games di quest'anno ho accettato immediatamente perché mi è sembrata una grande occasione per la città e per il suo territorio. Abbiamo una collina straordinaria, una porzione di territorio frequentata dai nostri concittadini, non solo in primavera, in estate per passeggiare, non solo qui al castello. Mi sembra davvero che le gare di tiro con l'arco possano riuscire nel migliore dei modi.